Voi siete nate qui e per voi è tutto normale lavorare, lo stipendio, stare qua stasera a parlare. Io qui ci vivo da 12 anni. A casa mia ho lasciato un altro mondo dove tutto sta per venire addosso da un momento all'altro. Sempre. Ti continui. Forse sbaglio ma credo che voi qui parlate di paura senza sapere cos'è. La paura vuol dire che non ti puoi fidare di nessuno. Mai. Perché se tutto sta sempre per crollare, la cosa più importante diventa salvarsi. Punto. E per salvarsi non c'è sta regola, non c'è sta nessuno che ti aiuta. Prima ti metti in salvo, poi prendi un respiro, ti guardi attorno e tu vedi la tua salvezza a quanto è costata. A chi è costata? Io penso che voi qui cominciate a conoscere la paura solo ora. Perché solo ora con le fabbriche che chiudono i fallimenti, le crisi, gli attentati, voi cominciate ad aver bisogno di salvarvi. Ecco Bianca, cosa sei disposta a fare tu per salvarti? Grazie. Grazie.